L'ultima edizione del forum della ristorazione si è tenuta a marzo di quest'anno e ha visto coinvolti più di mille ristoratori da ogni parte d'italia, decine di sponsor e decine di personalità di spicco del nostro settore. Con il senno del poi posso dirlo il vero valore del forum è stata la diversità delle visioni di chi ne ha preso parte. A proposito di ciò ci sono stati due pareri completamente diversi tra loro a riguardo di un tema veramente scottante, il futuro del personale, nella ristorazione tra robot e umani. Ne parliamo oggi. Bentrovata e bentrovato, qui al microfono c'è sempre il tuo, il nostro, il vostro Lorenzo Ferrari che come sempre sono io. Io ho un credo che le strade per raggiungere successo siano infinite, perché infinite sono le definizioni di successo. Infatti credo che non ci sia un solo percorso, come tanti vogliono purtroppo far credere, per andare da A a B, ma ce ne siano tantissimi, forse infinite. E ognuno di questi percorsi permette di realizzarsi, di avere soddisfazione e di ottenere risultati. Al forum della ristorazione questo concetto è uscito in modo esasperato. Del resto ho avuto il piacere di intervistare e ospitare personalità completamente diverse tra loro per storia, obiettivi e risultati. Sto parlando di personalità come Marco Di Giusto, Deborah Massari, Francesca Nonino, Simone Ciaruffoli, Pietro Nicastro, Isabella Potì, Teo Musso e tanti tanti altri. A proposito, sul nostro canale YouTube è uscito il mio intervento di apertura del forum di quest'anno, un video che sta già riscuotendo parecchio successo per cui se hai voglia di vederlo vai a vederlo. A tutti questi ospiti ho chiesto quale futuro vedessero e prevedessero nel mercato della ristorazione, in particolare sul tema del personale. A riguardo di ciò due risposte mi hanno colpito particolarmente poiché agli antipodi rispetto forma e sostanza e quindi le riporto seppur non in maniera fedelissima. Pietro Nicastro, titolare di Lohengrube, che avrò sicuramente pronunciato nel modo incorretto e per questo mi scuso, sosteneva una tesi difesa da molti. ci raccontava di come stesse già investendo in automazione, robotica, centricottura e in generale in tutti quei processi che possono portare a una standardizzazione, così importante per chi fa catena nel mondo del food, del prodotto, del servizio e degli ambienti. Chi parlava di come stia già provando a realizzare delle braccia meccaniche in cucina, dei nastri in sala per far affronta appunto al problema del personale, che continua a non esserci, come ho già ribadito nella puntata di Radio Ristorazione dove rispondo a chi dice che per trovare personale basta pagarlo. Ecco no, non basta pagarlo, ho già approfondito il perché. E le azioni di questi imprenditori non sono altro che evidenze, ulteriori evidenze, rispetto al fatto che la mancanza di personale sia il problema per chi fa ristorazione e in particolar modo per chi sta cercando di evolvere in una grande catena organizzata. Dall'altro lato, Teo Musso, titolare di Baladen e amico di Ristoratore Top da lontano 2019, al contrario sosteneva una tesi agli antipodi. Diceva persone, persone, persone. Una frase mi ha colpito particolarmente dalla sua intervista, quando diceva dobbiamo tornare a mettere al centro le persone e dobbiamo insegnare alle persone a far star bene le altre persone e a godere nel farlo. Questi due punti di vista, se ci pensi, se ci pensate, rappresentano l'eterno dilemma di chiunque lavori nel settore più bello del mondo. Macchine o umani? Robot o persone? Ferro, circuiti e valvole? O carne, vene e tessuti? Quindi, chi ha ragione? Esco ora dai virgolettati, da ciò che hanno detto gli intervistati e parlo a nome mio e nome mio soltanto, così da non mettere loro in bocca parole che non hanno pronunciato, ma soprattutto per ribadire la mia ammirazione e il mio rispetto per queste due persone che, seppur avendo dei punti di vista diversi, come è giusto che sia, hanno espresso i loro punti di vista in maniera chiara, sensata, articolata e quindi condivisibile. Ecco, questo secondo me non è il classico caso di out-out per citare Kierkegaard, non è o questo o quello, ma dal mio punto di vista hanno ragione da vendere tutti e due. Per iniziare la mia riflessione metto sul piatto due fatti che credo che siano incontrovertibili. Da un lato, primo fatto, c'è una gravissima crisi del personale che, ribadisco, non c'è. E non è che manca soltanto il personale formato, manca proprio il personale di un genere, anche quello a bassa, bassissima manovalanza. Mancano lavapiatti, runner, comì, camerieri, cuochi, mancano tutti. Chiunque sia dall'altro lato del bancone e riceve curriculum sa che la maggior parte di quelli che si candidano chiedono di lavori part-time, a chiamata e necessariamente non nel fine settimana, perché giustamente vogliono andare loro a mangiare nei ristoranti e non a morire davanti a una stufa o in sala vestiti da pinguini. Ma se nessuno cucina e porta piatti, chi gli serve tutti quelli che non vogliono lavorare nel weekend? Una domanda a cui io non ho ancora trovato risposta. Dall'altro lato, e questo è il secondo fatto, c'è l'esigenza da parte del pubblico di essere serviti, riveriti, coccolati e intrattenuti da personale in carne ed ossa, magari competente, che si prenda cura di loro, li porti attraverso un'esperienza neogastronomica, li faccia godere e che li metta al centro dell'attenzione. Come avrete capito, i due punti di vista sono in totale contrasto, ma credo che ci sia un punto di unione, un puntino dove le due visioni si uniscono. E quindi voglio fornire quelle che secondo me sono due soluzioni a riguardo, anche se ci penso bene, non sono altro poi che semplici, riflessione. Riflessione numero uno, ristoratore, non fare, illuddista. Se non cogli la citazione te la racconto. Ned Ludd, un tizio la cui origine è altamente dibattuta, visto che ci stiamo ancora chiedendo se sia un personaggio realmente esistito, o se è stato semplicemente il prodotto del marketing dell'ottocento, questo è un personaggio che ha passato la storia per aver distrutto un telaio che a detta sua gli avrebbe rubato il lavoro, essendo lui un tessitore. Da lì nacque il movimento luddista, nato per contrastare il progresso e la tecnologia in genere quando si tratta di lavoro. Movimento che, va detto, fu un buco nell'acqua perché non puoi fermare il progresso. E questo è un fatto. Per darti ulteriore conferma, qualora ti servisse, voglio farti una brevissima lista di mestieri che fino a ieri l'altro c'erano, e c'erano e come, ma oggi sono stati sostituiti da robot, macchine e automi. Te li elenco. Raccoglitore di birilli del bowling, utilissimo tra uno strike e l'altro. Accenditore di lampioni, fondamentale per non andare a sbattere con il calesse. Tagliatore del ghiaccio, che veniva poi usato per refrigerare, non c'erano i frigoriferi. A proposito, ecco, il robot che ha sostituito l'antichissima e nobilissima arte di tagliare il ghiaccio. Micca come oggi che non è più freddo come un tema. La centralinista telefonica, che chissà quante telefonate da un amante all'altro avrà passato tra una risatina e l'altro. Il lettore nelle fabbriche, che intratteneva gli operai e rallegrava le loro ore passate a lavorare. Oggi pace all'anima sua, in virtù della capitalistica e cattivissima radio. E poi c'è la mia preferita, che è l'uomo aquilone. Hai capito bene? Praticamente questo povero Cristo veniva issato in aria grazie agli aquiloni, in tempo di guerra, e serviva a vedere l'arrivo del nemico e segnalarlo con tempismo. Ne avranno impallinati tantissimi. Ma c'è di più. Il lavabicchieri, oggi sostituito da una lavastoviglia. L'addetto del fuoco a forna legna, oggi sostituito da gas, elettricità e così via. E il cuoco scarso, almeno uno per cucina, oggi sostituito da forni di ultima generazione. Cosa voglio dire con tutti questi esempi più o meno calzanti con il nostro mondo? Che noi non dobbiamo fare il luddista. Ecco, cara amica ristoratrice, caro amico ristoratore, non fare il luddista. Perché? Perché è inutile. La storia ci insegna che il progresso non si può fermare e che va bene così. Oggi nessuno può prescindere dall'avere in cucina una lavastoviglie, laddove ieri c'era un tizio o una tizia che lavava tutto il giorno e spesso tutta la notte. Oggi nessuno accende più i lampioni strada, raccoglie i birilli al bullying e vola su degli aquiloni per controllare la presenza dei nazisti. Per fortuna, eh? Aggiungo io. Guarda, al di là della facile retorica, la storia ci insegna che il progresso ha una costante. E questa costante è che toglie dal mercato i lavori a basso, bassissimo valore aggiunto. E, dall'altro lato, aumenta il numero di posti di lavoro ad alto, altissimo valore aggiunto. Del resto, c'è bisogno di gente che progetti, monti e assista a questi maledetti robot, o no? E bisogna che ce lo diciamo chiaramente, friggere patatine, lavare tazzine o controllare il brasato non sono lavori ad alto valore aggiunto. E magari trovassimo il modo di sostituirli in toto. Ma-ga-ri. Questa cosa gioverebbe anche i cuochi, i camerieri, i ristoratori che ora lo vedono come il male incarnato. E voglio spiegarti il perché. Con due ragioni. La prima ragione è che avrebbero tempo da dedicare alle cose importanti, avendolo tolto alle cose non importanti e non a valore aggiunto. Cose importanti tipo la ricettazione, la creazione di nuovi piatti, la finitura degli stessi, il servizio, l'impiattamento, il controllo qualità, la direzione lavori, il servizio in sala, il marketing, il controllo di gestione, eccetera, eccetera, eccetera. La seconda ragione è che se volessero continuare a friggere patatine, lavare tazzine a mano o controllare il brasato a vista, potrebbero sfruttare tutte queste cose come arme di marketing. Infatti il fatto a mano è una potentissima leva per distinguersi da tutti quei ristoratori che fanno far da mangiare a delle fredde macchine, mica come noi che cuciniamo con la legna, le ricette di nonna e controlliamo pedissequamente minuto per minuto l'arrosto che gira nel forno. Ora, davanti a noi abbiamo uno scenario leggermente diverso perché alcuni studiosi e gente molto più importante e intelligente di me sostiene che siamo prossimi alla realizzazione di un'intelligenza artificiale generale, molto più sveglia sul pezzo di chiunque di noi, che rischia di rubare il lavoro anche ad alto altissimo valore aggiunto. Della serie, Lorenzo, fai bene a te a parlare che il tuo lavoro di consulente e di imprenditorio non verrà sostituito da macchine, ma quando succederà? Che cosa farai? Quando sarà il tuo culo a essere in pericolo, che cosa farai? Ora, se chiedi a me che cosa ne penso, io non ci credo a questa intelligenza artificiale generale sia perché ci sono tanti autori altrettanto brillanti che la trovano un'ipotesi irrealistica, sia perché non credo che l'intelligenza umana sia ripetibile, figuriamoci migliorabile. Ma sai che c'è? C'è che io in realtà ci spero che questa cosa succeda. Io ne voglio 83 di quelle macchine, ne voglio 128, 492, voglio lo sconto quantità e pagarla 90 giorni con un assegno post data. Le voglio in batteria in un capannone e voglio dotarmi di un robusto scudiscio per frustarla a mo' di schiavo egizio, se non sono veramente intelligenti come me l'aveva dipinto il fornitore. Le voglio sul pezzissimo, mentre lavorano incessantemente per me, per i miei dipendenti umani e mi mantengono a vita, me e le future generazioni. Io sono un inguaribile ottimista. L'uomo trova sempre una strada e quando non la trova la crea, con buona pace dei robot. Noi non dobbiamo temerli, dobbiamo sfruttarli. Riflessione numero 2. Poche persone, chiave, formate, pagate, amate. Guarda, ho un'altra certezza. La ristorazione non potrà mai, 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 dico mai, prescindere dalle persone. Mai. L'ho detto mai. E sai perché? Perché ci rivolgiamo ad esseri umani che troveranno sempre del valore aggiunto in un altro essere umano. Io sogno un mondo dove le cucine sono totalmente robotizzate e automatizzate, dove schiacci tre tasti e parte la ricetta preimpostata da uno chef, in carne ed ossa, con i controcazzi, che controlla i robot con il fucile puntato, la quale ricetta viene preparata in 12 secondi dai suddetti robot e dall'ammasso di cavi e sensori, che dice pure grazie mentre lo chef lo guarda di sbieco la sua fredda ferraglia. E una sala gremita di clienti contenti, serviti da camerieri mega preparati, anche questi in carne ed ossa, che sanno vita, morte e miracoli di tutto ciò che è in cucina e soprattutto della filosofia del locale di cui fanno parte. E magari questi camerieri sono aiutati da robot che sbarazzano, puliscono per terra e riassettano il locale. Ma ga ri, ci metto 117 firme. E ripeto, questa cosa non toglie niente a chi vuole continuare a fare la ristorazione come la si fa oggi. Anzi, ma che dico come la si fa oggi? Chi la vuole fare come mille anni fa, cucinando sul fuoco le bistecche di mammut e i filetti di mostri giurassici oggi estinti? Nel mercato ci saranno entrambi i format e daranno a tutti l'opportunità per differenziarsi l'un l'altro, per fornire ai propri clienti valide ragioni per frequentare l'uno o l'altro format. E sai che c'è? Che io non vedo l'ora di frequentare entrambi. Tradizione, come si è sempre fatta, in carne ed ossa, tutto a mano e innovazione, come si è sempre fatta anch'essa, a seconda di quel che ho voglia. In questo scenario non possiamo prescindere da uomini e donne che saranno la colonna portante dei nostri locali e lo saranno sempre e che continueranno ad esserci sempre e comunque. Saranno meno? Certo che sì, ma saranno meglio. Più formati, più competenti, più attenzionati da parte dei titolari, con un rapporto più stretto con la proprietà, con più responsabilità, con più valore aggiunto, quindi con stipendi più alti e finalmente inizieremo a parlare di produttività e di valore orario che oggi non se ne parla abbastanza. Con meno lavori faticosi o rischiosi, con meno mansioni alienanti, con più giorni liberi, con un rapporto vita-lavoro più favorevole, eccetera. Perché è reputo probabile che questo accada? Perché sta già accadendo da decenni, da secoli. Tutti i vantaggi appena elencati, formazione, competenze, valore aggiunto, responsabilità, meno sbatti, più rapporto vita-lavoro, eccetera, stanno già accadendo. Stanno già migliorando da decenni. Oggi ci sta meglio di ieri, si lavora di meno, si rischia di meno, a parità di ore si guadagna di più. E questa cosa migliorerà anche grazie alla robotica. A patto, chiaramente, che noi, che facciamo parte del settore della ristorazione, ci evolviamo di conseguenza. A patto che noi miglioriamo di conseguenza. Non possiamo aspettarsi di fare le stesse cose di oggi e di non venire sostituiti dal robot. Succederà, è chiaro, è sotto la luce del sole descritto nelle stelle. A patto, quindi, che non vogliamo fare i pigri, i piagnoni, e aspettiamo che il pane finisca sul nostro piatto senza fare alcun che. Ecco, io ho detto quasi tutto quello che pensavo a riguardo. Fammi sapere cosa ne pensi tu, se pensi che sia il sogno utopico di uno che dorme in piedi, oppure uno scenario più che probabile. Io ci credo, lo sto dimostrando, anche perché ci sto facendo da dieci anni un piano d'accumulo, quindi ci spero pure. Prima dei saluti, due cose importantissime. La prima è che abbiamo organizzato la primissima edizione di Ristoratore Top Live. Un corso di tre giornate dove entri con poche idee e ben confuse ed esci con il tuo piano marketing per tutto il 2025, scritto nero su bianco. Hai capito bene? Un intero anno, già programmato, progettato e pronto per essere implementato. Sarai dal vivo con noi di Ristoratore Top e centinaia di tuoi colleghi da ogni parte d'Italia uniti da un solo scopo. Creare, implementare e misurare il marketing del tuo 2025. Ebbene sì, è il 2024, ma è già assolutamente ora di pensare all'anno prossimo. Saremo a Bologna il 21, 22 e 23 ottobre 2024, ci sono ancora una manciata di posti, affrettati e prenotare il tuo. Informazioni approfondite e biglietti su www.ristoratoretop.com. Cerca Ristoratore Top Live nella sessione formazione e scopri tutti i vantaggi che ti abbiamo dedicato. La seconda informazione è che se i contenuti che ti stai ascoltando ti piacciono, ricordati di recensire il podcast. Metti 5 stelline su Spotify, lascia un pollicione in alto e un commento su YouTube, ci aiuti a diffondere i contenuti. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, come sempre grazie per l'ascolto e al solito dai cazzo! Grazie! Grazie!